Corre, sta a fare il fisico, Toni Pamela che parla con una sedia Ma che... che sei tu, Toni, Nunzio? Con l'immaginazione... Nunzio con l'immaginazione C'è andato domattina e poi non c'è più andato Cioè al NAD si parla con le sedie, incredibile Non ce l'abbiamo visto in costume Non c'ha tanto bisogno di correre Il suo fisico è stato molto fortunato Grazie Sta bene Comunque a me ha portato risultati Ho perso 10 kg da mano Grazie